Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla tren Napoli-Salerno, a partire dalle ore 22 di questa sera e sino alle ore 6 di domani mattina, per consentire gli interventi di manutenzione all'interno della Galleria Castello, troverete chiuso al traffico il tratto compreso tra gli svincoli, Cava dei Tirreni e Salerno Centro, in tutti e due i sensi di percorrenza. Sul raccordo autostradale di Avellino, invece, ancora per lavori di manutenzione, e sino alle ore 17 del prossimo 13 marzo, troverete la carreggiata ridotta tra gli svincoli a Tripalda e Serino in direzione Fisciano. Dalle 22 di questa sera e sino alle 6.30 di domani, si lavora anche sulla statale 145 Sorrentina. Lavori di manutenzione del manto stradale determinano la chiusura al traffico del tratto compreso tra Castellammare Ospedale e Castellammare Villa Cimmino in tutti e due i sensi di percorrenza. Il traffico viene per questo motivo deviato sulla viabilità urbana dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano. Sino al prossimo 30 aprile, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, dalle 7.30 alle 17 sulla statale 372 Telesina, si procede invece con l'istituzione del senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo di Cajanello della 1 Roma-Napoli e l'allacciamento con la statale 87 Sannitica. Per quanto concerne il trasporto pubblico vi informo che giovedì 5 marzo a Napoli, in occasione dell'incontro di calcio tra Napoli e Inter, in programma alle ore 20.45 allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta, per favorire la fase di deflusso del pubblico dopo la partita, Trenitalia potenzia le corse sulla linea 2 della metropolitana. Ci saranno più partenze dalla stazione Campi Flegrei a fine gara. Per tutti i dettagli vi invito a consultare il nostro sito all'indirizzo www.muoversi.regione.campania.it È tutto da Acamir Muoversi in Campania, un saluto da Gigi Gallo Servizio a cura di Acamir e Regione Campania pericolare il nostro sito all'indirizzo e il nostro sito all'indirizzo di Napoli e Regione Campania Capitoli e Regione Campania